In questi giorni si stanno dicendo e scrivendo tantissime cose, tra le quali che non farà parte del Consiglio Comunale. Come non faccio parte? Mi è arrivata l'altro giorno, mi hanno notificato, mentre ero dal barbiere, il fatto che sono stato eletto nel Consiglio Comunale, quindi no, ci mancherebbe. Sono consigliere comunale, d'altra parte l'ho già fatto per qualche anno, anzi per nove anni, quindi ho già avuto esperienze di maggioranza nel ruolo di sindaco, di consigliere peraltro di minoranza, quindi ho esperienze in un senso e nell'altro e quindi userò la mia esperienza nell'una e nell'altro senso, più anche quelle politiche, per fare il mio dovere in Consiglio Comunale. Che cosa si aspetta in questi cinque anni? Mi aspetto innanzitutto che finiscano i sette anni di commissariamento e che si inizi a vedere una città governata e non soltanto gestita. Il mio ruolo sarà quello di consigliare, visto che un consigliere comunale ha quel dovere lì, quindi consiglierò al sindaco magari di prendere spunto dal nostro programma per dare magari quella spinta di vitalità che mi sembra che questa città ne necessiti. In Consiglio Comunale ci sarà Fabrizio Bertot, Martino Zucco Chinà, ma in realtà ci sarà tutta la squadra di Reparolium alle spalle? No, la squadra di Reparolium non sarà soltanto in Consiglio Comunale, sarà in Consiglio Comunale, sarà tra i cittadini, farà attività amministrativa, farà attività culturale e anche attività politica, perché Reparolium è un universo mondo che va dai partiti politici che ci hanno sostenuto, in particolar modo Fratelli d'Italia e Forza Italia, va all'attività culturale, associazione culturale, mi riferisco all'Officina dell'Idea, a Nazione Futura, a Cultura Identità, e d'altra parte anche Reparolium in questo caso come gruppo consigliare, quindi per l'attività amministrativa, quindi a 360 gradi saremo presenti nel tessuto amministrativo, politico, culturale e non solo della città. Martino Zucco Chinà, nuovamente in Consiglio Comunale, in opposizione. Sì, la storia si ripete, in continuità, chiaramente ci aspettavamo un altro risultato, ma anche questo è da prendere con positività, andando a individuare i punti di forza che questo risultato ci dà, ci sarà un cambiamento nel partner, intanto ne voglio approfittare per ringraziare Aldo Raimondo che in questi 5 anni mi è stato molto vicino, siamo stati reciprocamente vicini l'uno all'altro perché effettivamente sono stati anni particolarmente difficili, i prossimi li individuo in maniera particolarmente diversa perché credo che questo processo di crescita che è già stato quantificato nei fatti dal risultato elettorale possa ulteriormente crescere e quindi darci energie, effettuare un lavoro di squadra magari più intenso e più propositivo di quello che ha contraddistinto i 5 anni passati. Grazie a tutti.